Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali, dalle 8.30 alle 10.30, cronaca e curiosità. Iniziamo dal Corriere Adriatico, edizione maceratese. Sangue nella notte in centro, io nero rapinato da italiani. La sua avversione però non convince la polizia. L'ipotesi si è fatto male da solo dopo un furto. Il premier Gentiloni nel cratere è stato presente. Nel frattempo c'è anche la storia di un operaio clandestino. Nei cantieri SAE, a Muccia Stadio Fuori Uso, la squadra di calcio rischia di dare addio al campionato. Spara contro un'abitazione con un fucile a piombini. Approfondiremo la notizia che si è verificata a Porto Recanati. E ancora Cerreto, espulso marocchino, progettava bombe per l'Isis nel cellulare. Aveva immagini di decapitazioni e le istruzioni per fabbricare ordigni fai-da-te. Altra notizia dalla prima pagina del Corriere Adriatico. Controlli nelle scuole in due trovati con la droga a Corridonia. Resto del Carlino macerata. Foto notizia. Notte di sangue dopo il furto in un garage giovane africano soccorso nella zona di Corso Cairoli. Mi hanno aggredito e accoltellato. Padre e figlio che lo hanno inseguito negano. Non lo abbiamo toccato. Allarme spaccio. Operazione dei carabinieri blitz del deposito della droga. Trovati 220 kg di hashish. Maxi partita di stupefacenti scoperta nel garage di una fabbrica dismessa. Arrestati un 23enne di Monte Granaro e tre marocchini a Monte San Giusto. Terrorismo, bombe e decapitazioni. Videoshock nel cellulare. Marocchino espulso e poi Porto Recanati. Hotel House dissequestrato. Il campo dell'orrore. Le notizie di oggi dunque. Iniziamo dal Carlino. Pagina 3 SOS Sicurezza. Notte shock trovato ferito dopo il furto. Gambiano sanguinante in via Cincinelli, aggredito da quattro persone. Un gambiano è stato soccorso ieri mattina alle quattro in via Cincinelli, ferito e sanguinante dopo un furto commesso nella zona di via Cairoli. Su quanto accaduto le indagini sono in corso, ma ci sono due versioni contrastanti. Lo straniero ha affermato di essere stato aggredito senza motivo da quattro persone armate di coltelli. Due maceratesi, invece, padre e figlio sostengono di averlo sorpreso nel loro garage, da dove poi sarebbe fuggito di corsa. Nessuno di noi lo ha toccato, assicurano i maceratesi. E alcune riprese fatte dalle telecamere sembra diano ragione a loro. Il gambiano è stato soccorso davanti al vecchio seminario. Nel frattempo, in vicolo Orfanelli, ovviamente, c'è stato il raid dentro al garage di cui vi dicevamo. Padre e figlio segnalavano di avere appena subito un furto. Erano circa le 2.45. Mio figlio lo ha inseguito, ma non l'abbiamo toccato. Anzi, raccontano di averlo perso per strada. C'è sempre a pagina 3, taglio basso, c'è però l'incubo terrorismo nel cellulare, video di decapitazioni, espulso marocchino di 34 anni, telefonino rubato in provincia di Macerate. Il blitz si è verificato a Cerreto Desi, ruzione nell'abitazione, rimpatriato da Bologna. La visita del premier Paolo Gentiloni a Muccia nelle aree del terremoto, ricostruzione in cima all'agenda di governo in attesa dell'esecutivo. Andiamo avanti. Il messaggio che in sintesi ha dato Gentiloni è quello della continuità e ovviamente della fiducia. Sono le parole chiave del presidente del Consiglio. Dopo l'incontro ha avuto ieri mattina Muccia con i sindaci dei comuni più duramente colpiti dal terremoto che per circa un'ora hanno potuto rappresentargli le problematiche più ingenti. È tornato ieri in visita alle zone distrutte dal sisma dell'entroterra maceratese dopo aver partecipato lo scorso febbraio ad una cabina di regia a Pieve e Torina. L'altro fronte, siamo sempre però nell'area del sisma, anche un clandestino al lavoro nei cantieri delle casette. La CGL accusa un egiziano si è autodenunciato e lunedì primo sciopero degli operai a visso. Si è fatto avanti un clandestino egiziano senza premesso di soggiorno, anche lui a lavoro nei cantieri delle casette. La CGL e la fila CGL vanno avanti dopo che è scoppiato il caso con operai impegnati nei cantieri SAE, quando a dicembre sono emerse situazioni di lavoro nero, ore non pagate, inquadramento contrattuale fuori regola e la procura di macerata ha aperto un'inchiesta. Da ciò, come dicevamo, si aggiunge anche quest'altro caso. A Camerino consegni ritardo, sopra luogo di Borrelli nelle aree delle SAE, il capo delle protezioni civile, incontro per analizzare criticità e trovare soluzioni. È stato chiesto di velocizzare. Gentiloni ha fatto visita anche a un'azienda del territorio, parliamo della nuova Simonelli, questo è il titolo di pagina 6. Sei il responsabile di dimenticare questo territorio. Gentiloni in visita alla nuova Simonelli, siete la Ferrari delle macchine da caffè. Nando Ottavi parla, benché operativi all'estero, qui elaboriamo le strategie e realizziamo la produzione. Andiamo ancora avanti, un altro fatto importante della nostra zona. Parliamo dell'omicidio di via Spalato a Macerata. C'è la fiaccolata per Pamela a Roma, non è femminicidio di serie B, anche la raggi al corteo, la famiglia non dimentichiamo. Roma, la tua città si illumina per te e per tutte le vittime dimenticate. Lo scrive Marco Valerio Verni, lo zio di Pamela Mastropietro, nell'annunciare la manifestazione che si è svolta ieri nella Capitale. Andiamo ancora avanti, passiamo a pagina 8. Manca il personale sanitario, giorni di attesa per un intervento, la denuncia dei sindacati, tempi biblici e riforma rimasta a metà. Silvia Spinaci della CISL, le persone si scoraggiano e rinunciano a visite e prestazioni. Sequestro record, 220 chili di hashish. Operazione dei carabinieri tra Monte San Giusto e Monte Granaro, quattro gli arresti. Nei guai sono finiti un 23enne di Monte Granaro e tre marocchini. I carabinieri del reparto operativo di Macerata stavano indagando su una rete di spacciatori. Nel garage dell'ex calzatorificio c'erano panetti di hashish per oltre 220 chili accatastati in valigie imballati e arrivati da pochissimo nelle marche. Andiamo ancora avanti, al via all'Università di Macerata, la cerimonia mercoledì al Teatro Lauro Rossi. Parliamo dell'inaugurazione dell'anno accademico e il via, anche dicevamo, degli stati generali. Presente il giudice della Corte Costituzionale del Sudafrica. In provincia, la pagina della provincia, la comunità ritrova la sua chiesa. La solidarietà ci fa sopravvivere. Monte Cavallo, donata dalla diocesi di Parma, ieri è stata celebrata la prima messa. Ancora avanti siamo a Corridonia, spaccio all'Ipsia. Due denunciati, non voglio delinquenza. La dirigente chiama i carabinieri, scoperto un minorenne. Dunque, si intensificano i controlli finalizzati al contrasto di attività illecide legate al fenomeno dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, Francesca Varriale, dirigente scolastica dell'Ipsia Corridoni, ha segnalato alle forze dell'ordine due giovani, un maggiorenne e un minorenne, che si aggiravano con fare sospetto vicino all'ingresso dell'Ipsia. Sempre di droga parliamo, però in questo caso siamo a Camerino. Droga denunciati tre studenti scoperti a fumare in casa. Avevano 25 grammi di marijuana e controlli dei carabinieri durante la movida universitaria. Nella stessa notte c'è stata anche una scazzottata fuori dal locale. Giovane finisce in ospedale. Civitanova, cani, antidroga nelle scuole. Torniamo inevitabilmente sul tema, continuiamo questa rassegna anche sul fenomeno droga e studenti, droga e scuole. I carabinieri scattano controlli in due istituti di Civitanova. Foglia dice che serve un patto tra famiglie e associazioni. C'è preoccupazione. I genitori ignorano il fenomeno perché spesso non lo conoscono, ma può davvero coinvolgere tutti. Andiamo ancora avanti e passiamo alla pagina di Recanati. Un'estate di musica e arte pronti oltre 125 mila euro. Tra le iniziative finanziate c'è Lunaria, il Camer Festival, dunque notevole l'impegno di spesa adottato dal comune per le iniziative estive. Ancora avanti siamo però a Porto Recanati. SOS Hotel House intervenga il governo, appello del sindaco, ora misure eccezionali di sequestrato nel frattempo il campo dell'orrore. E ora il sindaco, Roberto Mozziccafredo, a esigere che sia il governo a occuparsi della questione sicurezza dell'Hotel House. Ci è stato notificato il provvedimento di dissequestro, scrive il sindaco in una nota, le ricerche della polizia scientifica sono concluse e ora i reperti saranno oggetto di studio da parte del personale specializzato per tentare di identificarne l'identità. Ancora avanti, sempre a Porto Recanati, ladro acrobata in casa, spariti soldi a una console, furto in piazza della Marina, nel frattempo ci sono anche altre pagine dedicate agli spettacoli, Tolentino, volti, sorrisi, rituali tribali, Scarponi racconta il Kenya, inaugurata oggi la mostra a Palazzo Sangallo. Ore 8.40, Corriere Adriatico, primo piano macerata, la storia che vi abbiamo raccontato, un africano ferito dalla testa, aggredito da quattro italiani, la sua versione dei fatti non convince però la polizia, l'ipotesi, fuggito dopo un furto, si è fatto male da soli. Il giovane era ubriaco e arrivato in Italia come rifugiato politico prognosi di dieci giorni. La polemica, l'amministrazione ha sottovalutato il grido di allarme, la critica del consigliere sacchi causato un clima di sfiducia. Sempre sull'evento, o meglio, sull'accaduto, ci sono altri racconti sulle pagine del Corriere Adriatico. Svegliato da quelle urla, ora usciamo in gruppo, il racconto di uno studente che abita in Corso Caroli. Alcuni residenti chiedono alle forze dell'ordine maggiori controlli nella zona. Il sisma, apriamo questa pagina, iniziando dallo sport, fuori uso anche lo stadio, muccia rischia lo stop, il terremoto mette in ginocchio anche il calcio. Inutilizzabili spogliatoi, la società medita, ahimè, di gettare la spugna. Sempre il sisma in primo piano, la visita del premier Gentiloni, norme particolari per i paesi più colpiti, la visita appunto al bel forte del Chienti e a muccia, lo Stato farà la sua parte, bisogna accelerare la ricostruzione privata. Queste le sue parole. Andiamo ancora avanti, Traini deve essere curato, siamo a pagina 7, c'è il rischio di una recidiva. Lo psichiatra lancia l'allarme nella relazione terapia in un luogo idoneo. Se venisse accolta l'impostazione, la pena sarebbe ridotta di un terzo. Traini deve essere curato, deve essere curato in un ambiente idoneo, onde evitare il rischio. di recidiva. Andiamo ancora avanti, le altre notizie che non abbiamo ancora dato. Terrorismo marocchino espulso, video su come costruire bombe. Abitava Cerretodesi, nel telefonino anche filmati di decapitazioni e sermoni del califato, istruzioni per assemblare ordigni caricati con pallettoni da caccia, usando come precursori fertilizzanti. Dall'indagine dei carabinieri Rabi Sufiane emerge che come soggetto autoradicalizzato e ora si indaga sugli eventuali contatti. Andiamo ancora avanti, siamo a Corridoni, a controlli con i cani antidroga. Due studenti finiscono nei guai, operazioni dei carabinieri nella zona dell'Ipsia, trovati Ashish e Mariguana. Cane ucciso con il veleno, cingoli, cresce l'allarme. Quarto episodio in poco tempo, l'animale era di una famiglia residente in centro. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per scoprire l'autore. Siamo a Camerino, droga e movida, tre denunce, universitari sorpresi a fumare uno spinello, in casa trovati 25 grammi di marijuana, sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Civitanova è battaglia per Palazzo Ducale. Il comune si rivolge a un legale, l'amministrazione vorrebbe sostituirsi ai proprietari privati. L'obiettivo è quella della messa in sicurezza. Da 15 anni c'è un'impalcatura che copre lo storico edificio a Civitanova Alta nella piazza centrale e necessita di un approfondimento giuridico anche un'altra vicenda, quella del Palazzo. L'ANC di Cantone chiede chiarimenti controlli sull'antitumorale dell'ACOM, fascicolo aperto dopo l'esposto dell'ASUR per un farmaco reputato non in linea con il bando. L'area bassa 3 dell'ASUR si è rivolta all'autorità nazionale anticorruzione guidata da Cantone per segnalare presunte anomalie sulla fornitura di un farmaco antitumorale da parte dell'ACOM di Monte Cosalo. Cosmari, bene la raccolta, nessun accordo con la COP, Giampaoli, siamo a Civitanova, riscontri positivi dai cittadini per la qualità del servizio. Recanati, l'infinito riapre il 3 maggio, ci sarà anche Dante Ferretti, la parte inferiore del colle ripensata dal premio Oscar, torna finalmente accessibile. Fiordomo annuncia che a giorni verrà presentato il progetto definitivo anche per l'area dell'ex Grottino. Andiamo ancora avanti e passiamo in questo caso ai quotidiani online. Iniziamo da cronache maceratesi, i titoli in breve, aggredito e rapinato da quattro persone, giallo tra lo sferisterio e Corso Cairoli, un 24enne portato in ospedale, la vittima è un ragazzo delle gambie. Un furto in garage prima dell'accoltellamento, caccia alle immagini del video, stiamo sulla stessa vicenda, il 24enne intorno alle 3 aveva rubato alcuni oggetti di poco valore nella zona di Corso Cairoli. Fiaccolata per Pamela c'è anche il sindaco Raggi, è partita alle 19 di ieri nel quartiere dove la ragazza viveva a Roma, il suo non è un femicidio di serie B, parla Marco Valerio Verni. Operaio clandestino nei cantieri SAE, atti in procura, l'uomo si è autodenunciato mostrando i documenti falsi con cui lavorava, il sindacato CGL ha inviato ai magistrati la documentazione. Gentiloni con solei sindaci, norme speciali per i comuni più colpiti, il premier dimissionario ha incontrato il presidente della regione Ceriscioli e gli 11 primi cittadini dell'entroterra maceratese. Operazione antidroga, maxi sequestro di Ascish, sarebbero oltre 150 kg di droga che sono stati rinvenuti in serata dopo le 23, i carabinieri hanno portato in caserma diverse persone. Andiamo avanti, con i quotidiani online passiamo a Picchio News alle ore 8 e 46 minuti, Radiofarmaco per cantone corretta all'area vasta 3, ACOM rischia esclusione per danni dalle gare pubbliche e multa di 50 mila euro. La visita del premier Gentiloni che apre le richieste dei sindaci, verificheremo se per i comuni più colpiti dal sisma possano esserci norme particolari. Ancora avanti un altro quadro, il premier quotidiano online che dà conto della visita del premier Gentiloni, il quotidiano è MTV, il premier in visita alla Simonelli Group di Belforte del Chienti, questa azienda di successo di cui mi avevano spesso parlato come la Ferrari delle macchine da caffè. Macerata, riflessioni sul patrimonio in pericolo, iniziative del Mibact, del comune e della regione, iniziata con la presentazione alla visita delle eccellenze di Macerata Musei, la giornata dedicata alla riflessione sul nostro patrimonio in pericolo, sicurezza, prevenzione, rinascita, riflessioni ed esperienze territoriali. Andiamo ora al Fermano, cronachefermane.it, le notizie in breve, da Lido tre archi, nottata di sangue e paura, due coltellati in strada, sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Porto Sant'Ilpidio e l'automedica, sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto. Piano di Monte Giorgio, autofuoco, padre e figlio in salvo, sul posto i vigili del fuoco di fermo che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Video di decapitazioni tutorial per costruire le bombe, spulso un 34 anni nel Java all'Isis, l'uomo di origine marocchina, era arrivato nelle Marche un paio d'anni fa, stabilendosi a Cerreto Desi. Torna a casa dopo due settimane ma non riesce ad entrare, la strana visita dei ladri, fermo, il proprietario di casa dice ero preoccupato per le armi, non le hanno toccate, ora le sposterò, che strano, non hanno rubato nulla, strada Montesecco si scopre una via bersagliata dai ladri. Operazione antidroga, anche a Monte Granaro, maxi sequestro di Ashish, sarebbero quasi 200 kg di droga che sono stati rinvenuti. Ancora avanti le notizie dall'Anconetano con Cronache Ancona, il titolo in primo piano, nuova location per la fiera di San Ciriaco, viale out per motivi di sicurezza. Il percorso si snoderà tra Corso Garibaldi, Corso Stamira e via 29 settembre nel rispetto delle norme minniti, antiterrorismo. Ancora è presa da tre dei sedici imputati durante l'udienza preliminare della maxi inchiesta per il collasso dell'istituto di credito. Causa persa per l'esproprio, il pala indoor costa al comune maxi risorcimento da 1,4 milioni. Nell'ultima seduta della consigliatura prima del voto arriverà il debito fuori bilancio dovuto ai terreni di via della Montagnola. Ad Ancona, operaio travolto da un muletto, piede salvato dall'equipe chirurgica, l'infortunio è accaduto giovedì sera tra via Barilatti e via del Commercio. Va a cogliere asparagi, lo trovano molto nel bosco. Siamo a Pergola, il pensionato fabrianese Roberto Varani era scomparso da casa nella mattinata dell'altro ieri per recarsi nell'area boschiva di Bellisio Solfare, vicino a Pergola. Sono le 8.49, passiamo dalla rassegna stampa alle notizie utili sul fronte meteo. Ci viene dunque in soccorso in questo caso il sito geofisico.it del Centro di Ecologia e Climatologia dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata. Vediamo le previsioni sulla nostra regione per oggi. Sabato 14 aprile, stesi rasserenamenti punteggiati da una temporanea nuvolosità sulle Marche, venti deboli sudorientali, temperature mediamente stazionarie, mare poco mosso. Le previsioni per domani, domenica 15 aprile, sulle Marche avremo un cielo prevalentemente nuvoloso, salvo locali intervalli di variabilità e la possibilità di deboli piogge più probabili sulle località interne, venti deboli o moderati orientali, temperature diurne in lieve calo, mare mosso poco mosso. Andiamo a vedere ora in chiusura anche le temperature massime e minime previste per le prossime 24 ore. Sui capoluoghi di provincia Marchigiani, partiamo da Pesaro 18-10 gradi, Ancona 18-11 gradi, Macerata 18-9 gradi, Fermo 19-9 gradi, Ascoli Piceno 28 gradi. 8.50 minuti 42 secondi, termina qui questo primo spazio informativo, la rassegna stampa torna lunedì con Roberta Foresi, oltre i titoli tornerà invece in onda alle ore 10, sempre con il sottoscritto, sempre su queste frequenze, appuntamento che tra l'altro raddoppia, andrà in onda alle 10 e alle ore 20. Tutti i contenuti sonori e iscritti sono disponibili sul nostro sito radionuova.com, l'invito ovviamente è alla consultazione. Ed ora, noi ci salutiamo, vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.